di Ali Begovic in questa azione, De Mirelle si arresta e tira forzato e sbagliato il rimbalzo dell'automatica 3.36 per chiudere il periodo, più 8 per la formazione giallo-blu de Dreyer scarica per Stefansson che va al tiro da tre punti, ancora un errore per la Virtus attenzione perché l'arbitro cade dopo che uno dei roller pubblicitari era stato spostato da qualcuno sugli spalti l'arbitro che è caduto, mi è sembrato Pozzana se possiamo andare a rivedere il replay di quello che è accaduto in pratica mi sembra che uno dei roller abbia invaso il campo e Pozzana ovviamente ha avuto qualche problema di equilibrio un siparietto abbastanza comico ma che credo costerà un pochino di euro alla leggea temo proprio di sì anche se le tasche del presidente Longobardi non ne subiranno poi un gravissimo danno